E' alleato per mandare a casa la sinistra che è la priorità, poi la Lega è la Lega e gli altri sono gli altri. E' un furto di 260 milioni di euro, questo qua adesso ha trovato un miliardo e mezzo e la settimana prima ha tassato i terreni agricoli e le funivie, perché ha messo anche l'Imu sulle funivie e sulle seggiovie, quindi è da ricovero. L'Imu? L'Imu, L'Imu. Sulle funivie? Funivie e seggiovie pagano Limo, i piloni pagano Limo. Perché sono immullonati? Ma anche i macchinari, le aziende pagano Limo. Sì, Limo e gli unicornonati. E quindi vuol dire, se era disperato la settimana scorsa non vedo perché abbia trovato un miliardo e mezzo la settimana questa. Ma questa politica degli 80 euro, dei 20 euro, del petto, è voto di scambio, dovrebbe essere... Ma funziona? Paga? Assolutamente, lui ha preso tanti voti.